Ciao a tutti, io sono Gianluca, questo è il prossimo video in comune di Gamerly Ciao Oggi siamo qui in questo nuovo server che non ne ho mai portato sul canale vero TheLegendCraft Praticamente, signori, faremo una nuova serie Io e il nostro caro game Non sarà una serie serie, diciamo, sarà più che altro una serie, tra virgolette, ignorante Ignorantissima Ignorantissima, perché sarà in un mondo del genere, guardate Cioè, noi, vedete quelle spugne, in realtà sono Lucky Block, non ha caricato la texture pack Però sì, in realtà sono Lucky Block E praticamente noi dovremmo andare in giro a cercare di fare delle basi in questo mondo Fare degli Achievement che ci suggerirete voi nei commenti e altre cose in questo mondo Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale TheGame che trovate nella descrizione Quindi, buona visione Ok ragazzi, siamo qui nel mondo per entrare nell'interno della modalità Per chi volesse venire a giocare con noi, perché ci sarete anche voi nella serie E voglio ricordare, se avete anche voi, basta fare slash rtp, scritto così Basta fare slash rtp, vi tipperà un posto totalmente random Sopra un blocco a caso Mi sa che qualcuno lì ha fatto crescere un albero Eh no, ma mi sa che proprio spawnano a caso nel mondo Qua c'è anche uno spawner di polli, credo Oh, buono, buono Sarebbe un buon punto allora per cominciare Allora, io prendo, prendiamo questo legno Oh, allora qua cadiamo nel vuoto Sono caduto, fantastico Sei caduto nel vuoto? No, 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 sono caduto un blocco sotto Ma non so come farò salire più che altro Eh, aspetta, aspetta Come hai fatto a cadere in tutto ciò? Eh, sono scivolato Ma nooo Eh, lo so, non è colpa mia Nooo Comunque ci hanno detto che gli spawner No, scusa che No, no, vai, vai Che gli spawner nel mondo possono essere cambiati addirittura Per fregare delle mob farm oppure delle farm di cibo Cose Dobbiamo trovare tipo nelle ceste delle uova Perché ci sono anche le cesti in giro per il mondo Che dobbiamo trovare E dobbiamo fare cose belle Esatto Questa serie la vedrete probabilmente un paio di volte Io intanto faccio una base intorno a questo blocco di Eh, io mi sono preso un po' di blocchi Ma sta iniziando a diventare difficile la cosa Aspetta Comunque signori potrete venire anche voi a giocare E soprattutto sarete coinvolti nella serie Perché prenderemo per ogni episodio che faremo Magari prenderemo un po' delle vostre coordinate Ci scrivete magari le vostre coordinate Noi ci tippiamo alle coordinate che ci date O tipo prendo due dal sotto il mio video Due sotto il video di game E veniamo a vedere le vostre costruzioni Sì, andiamo a cercare le vostre case Le farm Esatto E vediamo un po' come le fate Magari ci lasciate anche dei messaggi subliminali Di cartelli che dobbiamo trovare Cose così Insomma cose ignoranti Insomma io voglio andare a cercare un po' di Lucky Bloch Sì, dobbiamo iniziare a esplorare un po' Perché sennò qua Sì, sì Non la vedo proprio felicissima No, infatti Vabbè, a parte che abbiamo anche lo shop E in effetti si abbiamo lo shop Che ci permette di fare un po' di cose abbastanza carine Dai Sì Potremmo prendere dei blocchi Che però costano tipo Eh ma io sono povero Non so te Vediamo se Costano 160 Cioè la cobblestone costa 2 Io non me la posso permettere Aspetta No, no, no Non ho soldi proprio Ah io ne ho 20 Mi sa Oh no, invece sì C'erchio, scherzavo Ho 52 pezzi di cobblestone Io mi prendo Mi prendo tanta cobblestone Allora Vediamo se posso prendere questo kit base Dash kit base No Ancora 3 minuti e 14 secondi Devo aspettare Maledizione Comunque guarda Il fatto che abbiamo uno spawner di polli così vicino Non è malissimo No infatti Basta portare un po' di dirt a caso E infatti non mi ricordo come si fanno spawnare Cioè tipo Con lo spawner non bisogna fare una cosa particolare Penso che avremmo bisogno della grass Credo Ma tu hai soldi per comprare dei sapling tipo Oddio aspetta fammi controllare Perché ci sono i sapling da comprare Tu riesci a comprarla? Costano 8 No Non ho soldi Ho 0 soldi Io non so perché ho tutti sti soldi sinceramente Però l'ho comprato Quindi ottimo Oh perfetto No non me lo metti Oddio che bug Prendilo prova a metterlo te No Ma what? Oh 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 Ma no me l'ha ridato Aspetta Provo a togliere A crafting table No Aspetta aspetta Vuoi vedere perché c'è un blocco sopra tipo? No non c'entra niente scusa Ma che cazzo Aspetta un secondo ho due problemi Aspetta aspetta Oh vai Niente Ma che cazzo No 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 Non possiamo farmare legna Non possiamo farmare Zero Va bene Forse dobbiamo prima claimare È vero può darsi Io ho settato la uomo comunque Ok Cazzo No No Fuck Sono morto malissimo Sono morto stramale Moriremo un sacco di volte Ragazzi io vi avverto Tu il tpa lo puoi fare tipo Eh sì ma Io prendo il lucky block Vediamo Oh Ma dove cazzo ho aperto tutta la roba? Mi ha dato foglie Wow Charlie mi sa che tutte le mie cose le ho perse Però non ho perso un granché Quindi Vabbè dai Va bene così Hai trovato un lucky block? Sì però c'erano delle foglie Ma sono utili le foglie Potremmo ottenere dei sapling Che poi non possiamo piantare Ma tu avevi la crafting table Potrebbe essere Come hai fatto? L'hai comprata? Ho comprato il legio sì No vabbè Ma io non so perché ho capito i soldi tra l'altro Però c'è io Ma chi hai? Non lo so Ah 368 Ah ma perché abbiamo fatto pv pull Ah può darsi sai Perché abbiamo fatto pv pull Quando abbiamo provato Allora intanto mi scrivono su ts Qua c'è un lucky block Io voglio un lucky block Non è giusto Allora aspettate Adesso posso fare slash kit base Oh Non mi riuscirò mai a prenderlo L'hai preso? Oh sì Ce l'ho Vabbè dai Buono dopo 10 minuti Però va bene Io tra l'altro non ce l'ho No adesso Ti sono invertiti i ruoli Adesso tu non hai Non puoi Fino a quando non puoi prendere il kit? Eh io ho provato a mettere Eh non lo so Kit base Però ho provato il kit farmer Che mi dà una zappa Dei semini Cose E puoi posizionare i semini Prova Eh vediamo Ci provo No Ok sì Eh metto quelli di Ma che mi servono le zucche? Perché i semini li fa posizionare? Eh non lo so Aspetta prova così Vai Sicuramente funziona Forse lo devo mettere sull'erba Non c'entra niente Però posso provarci Eh proviamo Aspetta che c'è qua un blocco d'erba Proviamo Vediamo se funziona Vai Ho sacrificato il funghetto Perché cui funzioni E la no Ma quel funghetto Ma quel funghetto Ho fatto una bruttissima Fina Sì è finito nel vuoto È con me Però va bene Mi mancherà il funghetto Aspetta lì c'è un altro lucky Non morire Non morire Sei morta Non sono morta Ma non so come risalire mai nella vita Aspetta devo fare Di quanto sei scesa? TPA Aspetta No ma puoi fare home in realtà Home casa brutta Hai ragione Il comando home ti salva un sacco la vita Ciao 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 Ragazzi Questa sera sarà di un'ignoranza Ma di un'ignoranza Ma proprio tanta ignoranza Ma proprio ignoranzissima Cioè voi dovete venire qua E dovete lasciarci i cartelli Ed è caduto di nuovo Sono morto Però ho salvato la tua roba Ho salvato la carota Ho fatto un home velocissimo Prima di morire Ma aspetta Se faccio il slash shop Ci possiamo comprare anche tipo Ah possiamo comprare No possiamo comprare il bone Shop Così possiamo Ho uno Ho un carbone Non ho più soldi No Ho finito tutti i miei risparmi Allora aspetta Ti butto Ti butto tutta la mia roba Ok La metti nella cesta Ok Che poi anche Che barboni raga Ma proprio brutti Mamma mia Aspetta Tieni sta roba Tieni E poi andiamo a fare pvp Per prendere altri soldi How to claim land Poi magari ragazzi In questa serie organizzeremo robe Tipo tornei di pvp Con voi Roba del genere Anche perché c'è un'arena Direttamente in questa modalità E boh Potremmo organizzare qualcosa di figo Anche tutti insieme Infatti Ma ci sono diverse Tipo se noi facciamo Slash warp info Se volete venire a giocare qua Vedete qua Tipo trovate tutte le informazioni Per quanto riguarda I claim I vari kit Vedete qua Vi spiega come si claima Una sezione Con la mappa d'oro No si con la mappa Con la pala d'oro Con la mappa d'oro Non l'avevo mai sentita No vabbè Oppure slash warp pvp Tutti i vari comandi Ci sono quindi E qua possiamo fare pvp Tutto ciò che fa il caso vostro Ah è vero Ma io non posso picchiarti Se non è la protezione Guarda Ma probabilmente non vuoi picchiarmi Perché siamo nello stesso party Cioè avrebbe senso come cosa Dai Scusa eh Che siamo amici E ci picchiamo Ma in che senso ha Allora aspetta Facciamo slash spawn Diciamo alle persone Di venire a fare pvp Venite a fare pvp Andate tutti su Slash warp pvp Io vorrò malissimo Ma va bene Fate slash Slash Tutti all together Warp pvp Oh picchia questo Picchia questo Oh Oh mi ha dato un sacco di roba Tipo Hey ciao Ti voglio bene Siete i miei idoli Questo è un diamanti addirittura Oh Purettino No Ho paura di Charlie Non so se scappare No Uh ma quindi possiamo picchiarci anche qua No aspetta Perché adesso possiamo picchiarci Aspetta 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 Eh no Mi hanno ammazzato No 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 mi stanno ammazzando Mi stanno ammazzando Non so chi mi sta ammazzando Charlie sono morto malissimo No Come sei morto Io ho tutta la roba Ah no guarda Finchè il tuo inventario è vuoto Sei protetto dagli attacchi Ho appena letto Ah Quindi boh Io ho un sacco di roba A quanto pare Così Ok allora Prima che ti ammazzino Andiamo a casa Mi sembra una bella cosa Ti giro che ho tantissima roba Ma tanta proprio Vai scappa Non perdere tutto No che ti ammazzano Spawn No Fuggi Fuggi No non posso usarlo Quando sono in combattimento Slash spawn Prova slash home Aiuto No Charlie non mi lasciare Non mi lasciare Non me lo fa fare Slash home No non posso usarlo in pvp Ma come faccio a uccidere la pvp mod Non ne ho idea Eh devi stare per un po' Senza attaccare la gente forse Cioè Andando a intuito Non ne ho idea Come si fa Io sto andando a cercare Un tanto un lucky block Per vedere se mi da Magari un po' di culo Questa volta Come si fa raga E non mi ha dato niente Io sto cercando di raggiungere Sto tipo Che si chiama quando E sto cercando di ucciderlo Sì quando si chiama È tipo indiamantato Incentato Non so si capisce Ma fallo fuori subito Eh ma ci sto provando Wow Ho trovato un diamante E la nausea Che poi ma Nella sky grid Rende tantissimo La nausea Oddio che schifo Oh oh Sto per No Sono quasi morto No Ho perso tutto No E non sapevo Non puoi dirmi così No devo tornare raga Adesso gli chiedo Adesso gli chiedo Aiuto Droppatemi roba Aiuto Sto arreccando No E ho perso tutto Wow Guarda che infame proprio Aiutatemi Per favore E poi aggiungi Sono una ragazza Youtuber povera Oh mi hanno droppato Un panino No Si mi stanno droppando roba Ah tra l'altro i brocchi I gravel cadono Se tipo Adesso ho una cesta Tutta mia No E tanto potrò aprirla Anch'io Perché No Mi hai rubato la cesta Bastarda No dice che tu Oh tu puoi aprire la parte destra Io posso aprire la parte sinistra Che bug Che 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 siamo Oh però abbiamo trovato Un metodo geniale In realtà Oh perché c'è del diamante E l'ho trovato in elaki block E ho trovato anche dei Ah così Di ignoranza Si Ma il sapling ancora non è cresciuto In tutto ciò No e neanche i semi Cioè qua stiamo andando avanti Una lentezza incredibile Va bene ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Passate dal canale di game Che trovo nella descrizione Perché i prossimi episodi Probabilmente saranno alternati Ovvero Un video sul mio canale E un video sul suo Due volte a settimana Quindi uno e uno a settimana Quindi mi raccomando Lasciate tanti like Tanti commenti Passateci a trovare Mi piace Era un messaggio E venite a trovarci sul server Perché faremo tante cose Molto ignoranti In questa serie Che è ignorante Già di suo Tipo faremo Kubo Lucky Block Challenge Ci sfideremo tra di noi Ma ad esempio Io posso picchiarti No No non possiamo picchiarci È triste questa cosa Però voi potrete picchiarci Ma non farlo Noi potete farci del male Fisico Quindi ragazzi Spero che questo vi sia piaciuto Già vi è a tutti ragazzi Ciao Ciao